Sassari 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 Notizia positiva e che per la gara di domani il Fertilia sarà il completo Così come in eccellenza anche in seconda categoria si gioca il decimo turno la pietraia capolista del girone sarà impegnata nello scontro al vertice con la seconda della classe la Robursa Enori le due squadre sono distanziate di un solo punto sarà quindi una partita davvero interessante e difficile il Maristella invece quinto con 15 punti e riduce dalla vittoria per 3-0 sullo Sese di sette giorni fa e domani andrà a fare visita al Campaneda, terz'ultimo con otto punti. Lasciamo il calcio, parliamo di rugby. Domani si gioca la sesta giornata nel campionato di Serie A2. La Novaco si prepara ad affrontare in trasferta. Il paese lo farà senza l'infortunato Spanu, terza linea, e il tongano Tapu, convocato nella nazionale del suo paese per i test match di novembre. Stasera si terrà il primo contro l'Italia a Brescia. Colguero è attesa domani alle 14.30 dalla trasferta sul campo del rugby paese per la sesta giornata di campionato. La formazione allenata da Gert Pins ha sicuramente l'umore alto dopo la vittoria del derby con il capoterra per 14-11 di domenica scorsa a Maria Pia. I gialloneri sanno che, vista la penalizzazione iniziale di meno 8, in ogni sfida devono portare a casa il maggior numero di punti possibile e fino adesso lo hanno fatto e si trovano in ottava posizione a quota 9. La gara di domani non sarà semplice. Il paese è una buona formazione che lotta per restare nella categoria e attualmente si trova sopra la Novaco di un punto. Pins dovrà fare a meno intanto di Salvatore Spanu, terza linea, infortunato, ma rientra dalla squalifica rumeno Sirbu. Non ci sarà neanche il mediano di apertura a Tongano, Fanga Tapu Apicotoa, che come già annunciato negli scorsi giorni è stato convocato con la sua nazionale per diversi test match a novembre, il primo dei quali si giocherà proprio stasera allo stadio Rigamonti di Brescia contro l'Italia. Una convocazione di prestigio per il giocatore della Novaco, chiamato a giocare come apertura titolare della nazionale del suo paese, ma anche per la società algherese, che si è vista menzionare in diversi articoli di giornali nazionali e internazionali. Il basket in chiusura, questa sera alle 20 sul parquet del palazzetto monzese di Via Parco, la Mercedes Basket Alghero affronterà il Biassono. Le padrone di casa allenate da coach Stefano Fassina hanno fin qui vinto una sola partita sulle sei disputate e nell'ultima uscita sono state duramente sconfitte per 94 a 45 in trasferta dall'Umana Reier Venezia. Di contro la Mercedes di coach Claudio Cao vuole riscattare le due sconfitte consecutive ottenute e cercherà di portare a casa i due punti. Intanto buone notizie sono giunte in settimana dalla Federazione Italiana della Pallacanestro, prima l'omologazione del risultato del derby con la Virtus e poi il placet per poter richiamare di nuovo la società ASD Mercedes Basket Alghero. Era davvero l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie.